Ma da terza carica dello Stato, cosa pensa del fatto che Salvini tiri in ballo il Presidente della Repubblica sui 50 milioni di euro della Lega? Ma su questo ti rispondo molto semplicemente, condivido il pensiero del Ministro di Grazia e Giustizia, le sentenze vanno rispettate e questa è una sentenza definitiva e va rispettata tutto qui.